Il formato è scattato e adesso ricominciamo a farci le buche di via di pietralata che poi in questo tratto qua ce n'è anche pochi non dite nulla lo so già mi dovevo fermare facevo passare l'autobus così c'era più spazio poi però sarebbe arrivato tutti gli altri e non ci muovevamo più da lì via lungo via piccortina via lungo via piccortina via piccortina andiamo via piccortina 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 Cominciamo a prenderci un po' di buche Cominciamo a prenderci un po' di buche Questo mi sa che ce lo prenderemo Vedo che anche Alberto si è infilato E anche quello dietro lì lui E' un bello che dura Cominciamo a prenderci un po' di buche Cominciamo a prenderci un po' di restringimento Cominciamo a prenderci un po' di buche Qua stavolta la corsia non la sbaglio Di là l'ho sbagliata Di qua no Diciamo che cerchiamo di non perseverare Cominciamo a prenderci un po' di buche 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 Mi piace che nonostante il giorno Nonostante l'ora Sono le 11 e 3 quarti della mattina Il traffico è scorrevole Cominciamo a prenderci un po' di buche E adesso andiamo sul grande raccordo annulare Ok, a dopo, a dopo, facciamo Alla prossima